Un pochino più di spazio poi dopo vi avvicinate, fatemi posizionare la macchina. Un pochino più di spazio poi dopo vi avvicinate. Un pochino più di spazio poi dopo vi avvicinate. Un pochino più di spazio poi dopo vi avvicinate. Un pochino più di spazio poi dopo vi avvicinate. Grazie. Grazie.